Quando si parla di reni viene subito di primo acchito pensare all'acqua che filtrano stesse e banalmente al fare plin plin. La capacità renale però va ben oltre anche alla regolazione comunque del flusso del volume di per sé, sia ematico ma anche di liquidi. I reni sono dei veri e propri filtri naturali. Nel rene si capisce chiaramente quale sia la sua funzione già attraverso cui il liquido ne passa. Possiamo pensare al rene come un filtro, un filtro a forma di fagiolo dove non solo il sangue viene purificato ma è sede anche dell'aritropoiesi in alcune condizioni e non solo nel rene, sopra il rene questi fagiolini. Abbiamo anche la sintesi nella parte alta midollare del surene per esempio delle catecolammine in altre strutturine sovrarrenali a forma comunque di piramide. Quest'ultime sono fondamentali assieme ai reni per quanto riguarda la vitalità stessa del paziente. Pensiamo in primis comunque alla filtrazione che si ha di sostanze tossiche ed evitandone l'accumulo ma anche al regolamento stesso che si ha per esempio dell'introchio proteico. Non è un caso di fatti che in alcuni tipi di malattie come per esempio l'insufficienza renale il rene non svolga più la sua funzione a dovere e al top e tutto questo comporta in ultimo grido di fatti una marcata incidenza comunque di diminuzione della filtrazione renale stessa e ha un depauperamento organico che porterà il nostro paziente ad essere sempre più debole, sempre più affamato, sempre con grave perdita di peso, sempre con edemi fino a lunga dare a malfunzionamento d'organo generalizzato. La filtrazione renale di fatti è un parametro che deve essere tenuto conto in alcuni tipi di patologie come per esempio un'insufficienza renale, un danno renale che si può essere avuto da farmaci oppure a livello genetico. Pensiamo per esempio all'ipertensione arteriosa è un danno ai nostri reni, ecco perché dicono che la salute dei reni va in correlazione alla diminuzione del sale, troppo sale causa un'ipertensione, se si ha un'ipertensione renale il rene ne soffre maggiormente ma anche al diabete o la diabete. Nel diabete per esempio quindi lo zucchero ematico del sangue che non riesce a essere metabolizzato va a distruggere e necrotizzare il rene stesso e il rene va incontro comunque insufficienza renale. Vi sono cinque stadi ma già nei primi due comunque assistiamo a un malfunzionamento lieve fino a passare dal terzo in poi e arrivare a dialisi. Dialisi con funzionalità di un rene esterno meccanico, peritoneale oppure una dialisi extraperitoneale dove noi dobbiamo in questo caso permettere alla funzionalità di filtrazione di reni esterni, membrane esterne o in questo caso sistemi di flebo e far sì che i nostri reni in poche parole non vadano ancora di più in sofferenza. La dialisi ricordiamo che è l'ultimo step che può permettere di fatti i nostri reni di stare nel loro livello attuale di sofferenza e non andare ancora di più a questo caso autodistruggersi. Oltre alla dialisi visita solo il trapianto renale ma prima di evitare di arrivare adesso la corretta funzionalità renale deve essere quindi vista con un introito di adeguati liquidi, acqua non alcolici, riduzione del sale, attenzione alle proteine. Troppe proteine fanno male ai reni, questo sì è vero perché per andare in ultrafiltrazione la proteina va a danneggiare il rene in questo caso e il rene ne risente ancora di più. Troppe proteine di fatti vanno pressocabilmente di fatti anch'esse a bloccare questo meccanismo di filtrazione. Non è un caso di fatti che indieti per proteiche molto drastiche possano danneggiare effettivamente il rene. Quindi proteine sì ma dosate nel giusto peso, nella giusta vitalità della persona, del paziente stesso e nella terapia farmacologica che per esempio potrebbe avere. Quindi attenzione anche in questo. Breve scorso sulla funzionalità del rene. Bassa quindi in questo caso pressione, quindi poco sale, dosaggio delle proteine, mantenere un peso corporeo adeguato, se si hanno malattie e precauzioni, in questo caso per quanto riguarda l'intorito di liquidi, se abbiamo un'insufficienza renale molto spinta e terapia farmacologica adeguata se ne viene richiesta. Seguitemi, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Dieta, nutrizione e medicina qui per voi. Tac!